Però dal 2022 cominceranno ad accadere degli eventi disastrosi. Se lui mi dice che questo fenomeno è irreversibile, io mi sento di credervi. E mi dice anche però che la nostra fisica attuale non può fare nulla. Grazie a questa conoscenza forse troviamo una soluzione per aggiustare questo enorme problema climatico in cui questo salto di conoscenza è il più grosso salto di conoscenza che sia stato fatto mai dall'uomo. La verità autentica è sempre irreversibile, è troppo irreversibile. Forse per questo è vera. Qui abbiamo 26 faldoni di documenti. Questi documenti sono stati periziati. I periti dicono che sono veri. La situazione climatica c'è scappata di pieno. La storia di Ettore Rolando sostiene la vita. La storia di Ettore Rolando e questa macchina sostiene la possibilità della continuazione della razza umana sulla terra. La scienza attuale è sulla strada sbagliata. Ettore Majorana ha sviluppato una fisica, una matematica in armonia con la natura. Lui voleva comprendere l'essenza delle cose, voleva comprendere quello che fa sì che una possibilità diventi una realtà condivisa è il nostro pensiero. Questa macchina esiste. Questa macchina comincerà ad essere realtà. È la nostra scelta, è la nostra sensibilità, è la nostra responsabilità. Credere o non credere, noi abbiamo fatto la nostra scelta e in qualche modo anche voi e lui li sospinse ed essi volarono. Grazie.